3, 2, 1, perché faccio il countdown? 3, 2, 1, via! Ok, le date potrebbero subire modifiche. Thank you, Nintendo. 3, 18. State a casa, lo dice anche Ubaldi. Quindi. Vedi, se iniziano con Xenoblade vuol dire che non c'è tanto da hyparsi. Non c'è tanto da hypersi. Questi corpi restavano. Ah? Nel cielo? Questo non può essere! Non so. È un... Mechon! Commenze l'assulto su Bionis. È l'unica storia che ha effettuato la storia, dubito. Solo... Unlocca il potere di Monado. È il mio turno! Sulk! No! Ti uccido! Sulk! Sono passati nove anni. Sì, era 2011, no? Sento che non crederai questo, ma Sulk può vedere il futuro. Non avevo capito se potessi fare questo. Non è io. È il potere di Monado. Ho visto qualcosa di strano, tipo... La bocca di Charles era strana. La bocca di Charles era strana. Fiammelo... Rende... L'art style un pelino più generico. Ma vabbè, è meglio... È meglio dei pupazzi di legno che c'erano su Wii. un futuro comune questo sarà nuovo è il futuro dove Emilia riesce a trombarsi i Shulk se il capitale è sulle spalle ci sono persone ho pensato che vuoi andare oh no i portali portali vuol dire cameo di Xenoblade 2 dimmi di no dimmi di no non farlo riregistrato un nuovo epilogo cercheranno di connetterlo di più al 2 probabilmente come ottimenti sono turni o action? sono action però sono tipo da MMO sono in tempo reale ma dai tutti i comandi selezioni i comandi e attacchi in automatico roba da Gera questa non ho visto la data c'era una data a maggio ok oh yes 2K basket ah l'altra 2K Bioshock rumoreggiavano questo no? la collection di Bioshock cool e boh borderlands whatever carino lo stile della presentazione è vero in teoria posso anche fare pausa visto che non è in diretta vabbè per adesso non ne ho sentito il bisogno ma oh XCOM cool 2K ama il Nintendo Switch ah ok sto per dire oh god se era un gioco solo dei Fantastici 4 è l'ultimo DLC questo è tempo di distruzione non c'era un gioco parlare di un gioco di un gioco non ci stiamo senza un gioco abbiamo un universo per salvare tu stai spostando il tuo tempo tu stai spostando il tuo tempo tu stai spostando il tuo tempo already Doom. Blah blah Doom Doom. Shinsekai Into the Depth. Shinsekai, il nuovo mondo. Ehi John Gamer. Mi ricorda col gioco per Wii U dove avevi la navetta dovevi gestire le risorse. Non mi ricordo il titolo. Sì, quello lì, Affordable Space Adventures. Da Capcom? Grazie Capcom. La Pasqua? Vabbè non Pasqua, la Pasqua. Cos'è la festa delle uova? L'egg zipper T Bunny will visit your island in celebration of Bunny Day in early April. Can you hunt down the egg zipper head everywhere? La giornata della terra. Una cerniera sulla schiena, è un costumo. Sì, guarda, qualcuno si sceglie! Cosa? Oh, questa è la tua compagno di padre? Apparattamente offrono una serie di servizi. E la giornata della giornata dettagli molti responsabili. Vi trattere i dati, mappare il piatto, e mantenere una situazione di lavoro. Two-oh, perché non c'era nell'indie wall questo? Magari non in gioco indie. Buon lavoro Creato da Nintendo Almeno è la versione nuova Io ho un legame speciale con sto gioco Cioè non l'ho mai avuto ma Ho seguito una playthrough Quando uscì tanti anni fa Di una coppia che ci giocò Era abbastanza Così Aspetta cosa? Oh L'anello serve per altre cose Yo The future is ten years ago Solo con l'anello adesso We fit medley Aspetta L'we fit medley Non è di smash Oh no divento umano Ok Oh no adesso possono Italiano Spanish Oh non lo sappiamo Se c'è o no Ho ordinato ring fit adventures Però mi arriva tra 6-8 settimane Oramai Per via di ovvi motivi Forse anche più tardi Cool comunque Dall'immagine non capisco cos'è Oh esagoni Skip 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 Esagoni skip And now it's back 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 This straight up sequel Will pit army against army Sending the player on a quest around the world To save the world This time The graphics are more realistic Your choices matter more than ever And so does the terrain you stand up So master your surroundings Like the master strategist you are Across the land You'll meet new people Whose ethics and affinities Are informed by the new character Il miglior modo di celebrare Questo direct finora è Andare Giocati a smash Sullo scenario Di brawl Di capitan falcon Oh Oh god Oh god Oh god Pausa Oh Un secondo Mi serve un secondo Un secondo Ok 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 Non è un personaggio probabilmente Però Date magari Porco Lo dicono Ok Ma così Trailer Please Super smash brothers Ultimate dlc Will be Ok 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 Oh Yes 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 Dr. Coyle Please Ah non dicono Chi è però A giugno A giugno Oh my god Yes baby Oh god Questo vuol dire Che Rex torna Però Però Ah non mi frega Se la gente Delusa Io sono Contentissimo Però non so Se l'avrei annunciato Così Avrei aspettato Di avere di più Ok Questo possiamo Skipare No no Bravely La cosa di cui Sono più contento È che ci sarà Finalmente Musica di Arms In smash Era così Stupido Che non c'era Sì è la solita Storia No solo che Adesso I tizi hanno Un design diverso Ah Sono Australiano Che Voi 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 C'è Per Voi Voi Perchè creare un personaggio se devi farlo così generico? Lei è ok? Ma lui è tipo... Guarda quel tizio dietro, perchè non è lui il protagonista? Crikey, sorry pal, non ho visto tu stando là! Ho un hat! Non siamo amici o nulla! Non mi importa niente! Ho solo il mio hat! Come se guidati da freddo, tutti i heroes si uniscono le forze e si stanno insieme a una grande missione, tutti pieni con un senso di propria. Ma ci saranno i quelli che stanno nel suo modo. I portatori di asteriski! I bestemmiatori! I portatori di asteriski! I portatori di asteriski! I bestemmiatori! C'è qualcosa che non mi convince dello stile visivo. Questo meccanica c'era anche negli altri due. E dovrò poi chiedere agli esperti cosa cambia. Strategicamente guardare, o prendere molte aczioni in un turno. ed era leggermente broken. Sì sì, mi ricordo che ne parlavano. Ma non è per quello che piace alla gente perché è broken. Sì, i modelli... i personaggi sono tanto 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 3DS accadezzato male. Lo so che... forse era per mantenere l'artstyle però non so se mi piace la decisione. Non stanno benissimo secondo me. Demo già disponibile. Demo già disponibile. Visto i probabili delay. I probabili delay. 10 minuti rimasti. Giochi da tavolo! Wuhu... Go... Dadi... Biliardo... Si vede che non avevano molto di cui parlare se stiamo parlando di giochi da tavolo. Vi ricordate quando questa era una delle feature principali del Wii U e poi non ci hanno più fatto niente? Menkala. Hanafuda. Backgammon. Renegade. Drops. President. Domino. Hannafuda. Hannafuda. Dovrei giocare almeno una partita ad Hannafuda. Per definirmi un vero fan Nintendo. Un giorno. Ludo. Ichi Mahjong. Sevens. Golf. Darts. Texas Hold'em. Nine Men's Morris. Air Hockey. War. Karo. Chinese Checkers. Yacht Dikes. Ah boh, se c'hai dei nonni può essere interessante sta cosa. Se costa poco. Ah boh... We... Played? Aspetta, bowling potrebbe essere un gioco tutto a sé? Va bene, va bene, ci sono tanti giochi. Il team di WePlay sta facendo roba. Questo ha... Questo ha... Questo ha... L'online ma non Mario Party. Beh, non davvero. Non ancora. Questo è... Oh, ce l'ho in mente questo. Non mi viene il titolo. Però lo conosco. Ninjala. Ecco. E... E... E Splatoon solo con i ninja. No vabbè, non è Splatoon ma è tanto ispirato da Splatoon. Lo stile. Lo stile. Un compito copiato diverso per non farlo sembrare uguale. È al limite. Però boh, se a Nintendo va bene. Quel drago mica lo speciale di un tizio di Overwatch. Ninjala. Free to play? Cool, magari lo provo. Carrellata? Ok, questo è un gioco di tipo vent'anni fa, no? Trent'anni fa. Credevo che fosse già uscito. E... And get ready to strap in, because Star Wars Episode I Racer is coming soon. In this remade dragon riding classic, you'll pilot the blue dragon through incredible landscapes. Battling giant creatures and lethal battleships. Using 360 degree controls and lock-on targeting. It's your destiny to reach the tower when Panzer Dragoon remake launches first on Nintendo Switch as a time console exclusive today. There's a lot more coming to Nintendo Switch. Perché hanno... Quei due giochi ne hanno voluto parlare insieme. Ok, 3 of mana. Fuse 0. Eh, eh, eh. Ok. Well... Pfff. Ahahahah. Warhammer... 40.000. Ok. Bohemia... Oh, Vigor. Burnout Paradise, ok. Ok. Questo lo conosco. Saints Row 4 reelected. Vabbè, Saints Row. Trails of Cold Steel 3. Ok. Robot. Mr Driller Drillland. Mr Driller. Erano anni che non sentivo il nome Mr Driller. Minecraft Dungeon. Well, it's been fun. But today's Nintendo Direct Mini isn't over yet. This is our last news of the day. 4 minuti. Bayonetta? Vabbè. Vabbè. Magari ci becchiamo all'annuncio di un qualche... ...una qualche forma Galar. Con l'espansion pass, il mondo di Pokémon Sword e Pokémon Shield game crescerà. La straordinaria isla nella sea, Isla di Armour, e il snowscapo, chiamato come Crown Tundra, sarà accessibile nella regione Galar. Non mi piace che parlano dei due DLC insieme. Ok. 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 On the Isle of Armour lies a dojo for Pokémon battles. Where trainers gather to master their skills. And if you train at this dojo, you will receive the legendary Pokémon. Kub Fu. The Master. Stop it. Through your training with Kub Fu, you will receive permission to challenge the towers of two fists. On the Isle of Armour. In this challenge, you will enter one of two towers. The Tower of darkness, or the Tower of waters. You may only choose one, and you and Kub Fu must reach this challenge alone. so, the Tower of an Eder mode. If you choose the Tower of darkness, you will learn the single strike style. ma se tu chiusi la torre delle vetture, si uscirà la stile di rapid strike dark, o la vettura, la scelta è tua e tua solo di più di questo, la forma di evoluzione del tuo partner Pokémon sia il Rillaboom, Cinderace o l'Intelion potrà diventare una forma di Gigantamax come una rivoluzione per la tua avventura nella isla dell'Arma e io che li ho tutti i tre? andiamo a guardare qualsiasi forma di Gigantamax Giga rullio Giga fiamma palla e giga arpione sparo mirato questi rulli sono più forti da Dynamax e quando usati, le abilità di opponenti non hanno effetto quando si attacca ok farò finta che me ne frega oh puoi vestirti come rosa cool yeeey Goggles è contento Pokémon Sword Expansion Pass e Pokémon Shield Expansion Pass Part 1 l'Isla dell'Armour si lancerà a fine giugno anche, per chi ha comprato l'Espansion Pass abbiamo preparato questo bonus prima di comprare che potete ricevere ma chiiiiil vuole inizio oggi, durante le battaglie max-rate in l'area wilde avrete una più chance di incontrere il Gigantamax ma questo l'ha già annunciato di stamattina questa mattina e Garbodor e Charizard in Pokémon Shield battle with other trainers to take on this challenge together questo è tutto per oggi questo è tutto per oggi Nintendo Direct Mini grazie per aver guardato questo è tutto era abbastanza mini no, 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 no stop eeeh beh voilà il Direct il Direct di febbraio ora 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 devo dovrò sorbirmi la la delusione di mezzo internet perché è il personaggio di Arms oh lethal oh non è mezzo è più di mezzo internet? tre quarti di internet tre quarti di internet ma non solo tipo zi Momo sarà deluso Andy sarà deluso oh man sapete cosa? se mi date un secondo attacco Arms e ci giochiamo un attimo per festeggiare non trovo giusto perché voglio voglio guardare i personaggi e voglio farmi un'idea di chi ci starebbe meglio in Smash ehm Andy è deluso confermo ma sicuro che ehm non importa io sono contento ah dovrò dovrò farci un sakurai sicuro su sta cosa breve ma dovrò farcelo secondo me non è Springman ma va vabbè vabbè comunque riguardo al direct hanno fatto bene a chiamarlo Mini e a rilasciarlo così non era degno di hype esagerato secondo me era ok non era brutto ma la maggior parte della roba era port e contenuti aggiuntivi per roba che c'è già Sì mi pare chiaro che quest'anno Vabbè è ovvio Ormai il mondo è così quest'anno Fina Sarà lunga Sì è stato un brutto Secondo me non avrebbero dovuto farlo Me lo sarei tenuto Per quando c'era il trailer Cioè Da un lato dipende Quanta gente sarebbe stata delusa Capisce Perché se Hai visto quanto sono stato deluso Io da Byleth Se l'avessero detto Subito Forse avrei avuto tempo di prepararmi E non ci sarebbe Stato quel momento in cui il cuore mi sprofonda Nell'oscurità Qua Almeno Sai non arrivi al trailer Pieno di speranze Infrante Non lo so Se venisse da un ipotetico sequel di ARMS Che presentano a giugno Non mi sembra il momento adatto Per fare un sequel di ARMS Onestamente E non credo nemmeno che sia in sviluppo Il team di ARMS è lo stesso di Mario Kart 8 Se non altro staranno lavorando a Mario Kart 9 Per il lancio della prossima console ARMS 2 esisterà Credo un giorno Ma non su Switch Vabbè ma era per Era per dare qualcosa di tangibile A Alla gente Per farlo comprare il Il Fighter Pass Magari Sai cosa Magari questa volta Fanno L'opposto Magari partono con qualcosa Che non eccita più di tanto la gente E poi chiudono in bellezza Invece di fare come hanno fatto la scorsa volta Vabbè Mi sposto Oh god Ho tipo il divano invaso Sì Datemi un secondo che mi sposto sul divano No